i file di simulazione i sim file sono i file di simulazione vi ho già detto prima e vi avevo elencato che OMS supporta alcuni tipi diversi di file di simulazione quelle che useremo noi sono i file .sim o poi appunto ci sono i Luca ci sono anche tra quelle che non avevo nominato in precedenza dei file di simulazione che si chiamano test e questi hanno a che fare con quando le componenti devono essere testate e hanno a che fare con una specifica procedura di test che si chiama unit test che è propria di Java quindi è una cosa dedicata più agli sviluppatori che agli utenti c'è una classe all'interno di Java che si chiama Simulation Builder che crea queste simulazioni e un sim file come è fatto all'interno beh per esempio questa è una struttura di un file semplice di simulazione come vedete c'è un'intestazione nell'intestazione c'è la parola chiave sim chiusa fra due parentesi tonde e all'interno c'è il nome della simulazione in questo caso era Simple Turnwhite Model for EF e in questo caso era il modello di Turnwhite è un modello piuttosto antico per il calcolo dell'evapotraspirazione la simulazione il testo che descrive la simulazione è compreso fra due parentesi graffe che sono le parentesi graffe più esterna poi all'interno di queste parentesi graffe della simulazione ci sono vari campi successivi uno di questi campi e quello che andiamo a vedere nell'immagine immediatamente successiva è la specificazione di una componente che è usata all'interno di questa simulazione in particolare il modello la classe nel termine della modellazione ad oggetti che viene usata è quella che si chiama TW Turnwhite che è il nome del modello il nome dell'autore in realtà del modello vedete che qui non ho sottolineato che ci sono degli elementi che sono colorati di verde e che sono presentati come con due barre retroverse questi sono commenti è il modo di commentare che si usa nei programmi nei linguaggi di programmazione che derivano in qualche modo dal linguaggio C e queste in particolare sono dei commenti che stanno su una linea quindi se voi mettete commenti in multilinea dovete per ogni per ogni linea aggiungere la doppia barra retroversa all'interno del modello ci sono questa è una simulazione è la simulazione più semplice possibile questa è una simulazione che non richiede o meglio richiede dei parametri in questo caso i parametri in questo caso i parametri sono di diversa natura come vedete i parametri sono i primi due sono un file di input che in questo caso si trova nella directory c2.od project od sa per Olaf David non so se l'ho nominato che è il principale architetto di tutta questa infrastruttura e climate.cst è un file particolare che questa componente richiede in input l'output file è stato chiamato output.csv come vedete ci sono degli apici questo significa che questi sono delle stringhe ci sono invece degli altri parametri che sono dei numeri c'è un parametro che si chiama Ranoff factor 0.5 latitude 35 smk200 in realtà questa questa informazione per permettere questi parametri voi dovete sapere come come funziona la componente e una parte di documentazione esterna dovrebbe appunto provvedere a descrivervi quali sono i parametri appunto della componente per le componenti che abbiamo sviluppato noi abbiamo varie informazioni vari modi soprattutto veicolati attraverso i notebook che contengono tutte queste informazioni cioè quali sono i file di input quali sono i file di output e quali sono i parametri che possono o devono venire usati il codice estrema razio per capire quali sono i parametri se non ci fosse nessuna documentazione e andare a vedere i codici i nostri codici sono studi come vedete su un repositorio che si chiama GitHub e si chiama GitHub GeoFrame Components in particolare parte della nostra documentazione è sempre caricata su OSF ed è disponibile a tutti questa è una simulazione un po' più completa come vedete c'è come prima più completa non nel senso che ci siano simulazioni più complete o meno incomplete più complessa questa è una simulazione che si chiama Water Tank risponde ad un modello semplice di riempimento e svuotamento di un serbatoio c'è questo comando di Build in cui in cui le eventuali componenti in source code sono costruite cioè in questo caso Water Tank non è fornito come codice già compilato ma viene compilato con un comando che è questo Build anche qui ci sarebbe da fare una breve distinzione tra linguaggi compilati e linguaggi interpretati sapete qual è la distinzione? no comunque dopo allora parliamo anche brevemente di questo e il Java è un linguaggio particolare perché è un linguaggio compilato però la compilazione non è fatta su un processore specifico cioè l'oggetto fisico ma è fatta su un processore virtuale che è quello della Java Virtual Machine qui è usata anche cioè vedete una nuova keyword che è Output Strategy e in questa Output Strategies è specificata la la directory che sarà una sottodirectory della directory dove si trova effettivamente il file che poi viene eseguito lo schema lo schema di che con cui viene costruita il file di output si chiama Numbered significa che voi potete eseguire questa componente più volte ogni volta che la eseguite viene aumentato un numero e quindi voi non andate mai a sovrascrivere le simulazioni precedenti altrimenti se voi eseguite e non cambiate e avete per esempio lo schema di default quello che fa è che voi magari cambiate un parametro rieseguite il vostro il vostro sistema e cancellate la simulazione del parametro precedente questo di solito non è così impattante nel senso che la maggior parte delle simulazioni non durano tanto tempo però se le simulazioni per esempio durano un giorno cancellare i risultati prodotti da un giorno ancorché sbagliati è sempre un delitto nel senso che magari poi comunque si vuole andare a controllare quali erano questi risultati per fare determinate considerazioni e quindi è meglio usare una strategia di questo tipo per esempio numbered c'è un modello che è definito che in questo caso però all'interno del modello c'è un comando particolare che è while while vuol dire mentre e while aperte le virgolette climate punto more data in questo caso ci sarà un file che si chiama climate e il more data in questo caso è una parola chiave che dice che viene letto un file che è questo file climate che è specificato che è specificato probabilmente nei parametri e fino a che ci sono dati all'interno di questo file viene eseguita una viene eseguito il programma cioè per esempio leggo facciamo un esempio viene letto un file di precipitazioni legge il primo dato di precipitazione poi vengono fatte delle operazioni queste operazioni vediamo poi in cascata che cosa sono quando poi guarda se c'è un secondo dato utilizzando il secondo dato vengono rieseguite di nuovo tutte le operazioni che sono in sequenza e così via finché i dati sono esauriti adesso vedete anche che qui all'interno ci sono ben tre sotto ambienti il primo ambiente si chiama components il secondo si chiama connect e il terzo si chiama parameter l'ambiente parameter lo abbiamo visto in precedenza l'ambiente parameter contiene contiene i parametri che vengono utilizzati da che cosa? dalle varie componenti che che vengono usate prima non c'era prima non c'era alcuna problematica perché si usava una singola componente ma qui viene sancito il fatto che ci possono essere più componenti queste componenti saranno elencate all'interno della prima di queste tre di questi tre sottoambienti in connect dobbiamo curarci di mettere in relazione due componenti tra di loro per esempio una componente che legge dei file in entrata passa i dati alla componente di calcolo i quali poi li passa i dati alla componente di scrittura i parametri come in precedenza contengono i parametri che contengono i parametri che poi vengono usati dalle componenti si chiamano scopi in scopes in inglese allora nel primo scopes abbiamo abbiamo riempito in questo caso i campi interni di queste componenti di connect e anche di parameters come vedete abbiamo una componente che si chiama watertank.climate e abbiamo una componente abbiamo una componente che si chiama watertank.output e abbiamo una componente che si chiama watertank.tank come sappiamo che ci sono questi tre componenti lo sappiamo perché questo ci è fornito dalla ci è fornito dalla documentazione esterna che riguarda la componente watertank oppure lo sappiamo perché siamo andati a leggere il codice scritto all'interno di watertank watertank generalmente è una classe di java e climate output and tank sono tre sono tre elementi anzi sono tre classi sottoclassi della classe watertank però noi non vogliamo portarci dietro tutte le volte il termine watertank.climate o watertank.output anche perché queste componenti queste classi molto spesso hanno dei nomi estremamente lunghi allora quelli che vedete a sinistra climate out e tank sono non sono altro che dei nickname dei soprannomi corti allora watertank.climate all'interno di questa simulazione la chiamo climate watertank.output all'interno di questa simulazione la chiamo out e watertank.tank la chiamo tank e si intuisce che climate è il dato di input output output o out è il dato di output e tank invece è il codice che fa il mio sistema quindi quello che poi dovrò curarmi è che la componente climate siano letti i dati e siano forniti in input a quale componente la componente tank che fa i dati di output e poi e poi questi siano siano prodotti in uscita ed infatti questo è quello che è scritto in connect come vedete c'è climate che è il nickname della della classe climate e di nuovo di climate che cosa viene viene preso viene preso un campo che si chiama rain rate che starebbe per intensità di precipitazione climate rate rain rate che cosa va va è l'output di climate ma è un input di tank e in particolare quale input di tank l'input di tank si chiama rain rate siccome tank e climate sono due diverse classi due diverse componenti il tank rain rate invece di chiamarsi rain rate l'input in tank sarebbe potuto chiamarsi per esempio semplicemente rain e chi costruisce queste cose deve curarsi che rain rate di climate e dell'eventuale rain rate di tank abbiano lo stesso formato poi tank ha degli output in particolare tank ha 4 output volume il volume la profondità la velocità e la portata e questi output diventano input di che cosa della della componente tank e in particolare la componente tank è out volume out depth out velocity e out qout e quindi questi sono i 4 input della componente output che a sua volta poi andrà a scrivere dei file o a rappresentare sullo schermo adesso in questo momento non sappiamo esattamente che cosa fa l'out ma molto probabilmente andrà a scrivere dei file in particolare che vada a scrivere dei file lo deduciamo dalla lista dei parametri perché il primo parametro rain file che si chiama climate.rainfile che è evidentemente un altro campo della classe climate ed è questo file che se dollaro oms prj significa la directory di lavoro all'interno di oms ok data perché sono nella directory data rain underscore data punto csv questo è il dato di input viceversa il dato abbiamo anche out punto out file l'output il file di output si chiama semplicemente output punto csv e poi abbiamo specificati quali sono i parametri che sono necessari alla componente tank top radius il raggio superiore il raggio di uscita cioè il raggio questo è un tank ha un raggio di 20 metri il raggio di uscita è 5 centimetri la profondità è un metro e poi serve anche un dt che è il tempo il grado di lo step temporale l'intervallo temporale rispetto al quale viene fatta la simulazione correttamente a commento dei dati vengono anche messe le unità di misura metri metri e secondi tutte queste da un insieme di informazioni che sono se vogliamo parzialmente complete perché manca ci deve essere una documentazione esterna che spiega come la componente funziona ma che rappresentano le componenti che vengono usate le loro connessioni e i parametri che le componenti usano e questo ve l'ho spiegato in tutto in dettaglio e qui invece ve l'avevo spiegato anche pezzo per pezzo ma non c'è non c'è nuova non ci sono nuove informazioni e qui i commenti sono in verdino come vedete le componenti sono in rosso il oltre al commento per una linea si possono mettere anche componenti in multilinea come quelli che vedete che vedete rappresentato in fondo a questa connessione una cosa da sottolineare nei parametri che i parametri possono essere di qualsiasi tipo possono essere dei file e possono essere dei dati numerici molto spesso saranno dei file perché il caso generale che si applica è che i dati in input richiesti siano anche molti e molto complessi ci sono delle domande se non ci sono domande chiuderei